Torna al Travalli Tour Motorrad 1, domenica 3 luglio da Cavallini Moto a Voghera, si parte per visitare le vie della città e le bellissime coline dell'Oltrepopavese. Per maggiori informazioni visita cavallinimoto.it Pierezio Ghezzi, buongiorno, lo abbiamo detto già da ieri, il Partito Democratico si è detto soddisfatto per questa nuova iniziativa del Comune per combattere l'alta velocità e questi automobilisti che sfrecciano nelle strade e provocano parecchi disagi, è così? Direi che è così, nel senso così abbiamo visto la notizia e letto la notizia sui giornali, incontrerò a breve il comandante dei vigili per avere più dettagli, è una notizia sicuramente positiva la sicurezza dei cittadini rispetto ai problemi della circolazione è molto sentita, noi abbiamo diffuso 500 questionari nella zona Ponte Rosso del quartiere Est, un centinaio hanno risposto uno degli elementi che è stato puntualizzato dai cittadini del Ponte Rosso è stato proprio il problema della grande velocità, il problema dell'incolumità fisica con l'Italia del rispetto abbiamo fatto due presidi, i cittadini ci hanno detto che il giorno, i giorni successivi, i nostri presidi, la polizia locale ha cominciato a fare i sopralluoghi questo significa che se i problemi ci sono e ci sono e non come dice il sindaco Barbieri che sono inventati, è lui che non li ha mai risolti la raccolta firme ha un senso, il presidio ha un senso e quindi ha senso che l'amministrazione comunale risponda in termini positivi è un primo passo, ci auguriamo che diventi un progetto più articolato e più complesso e che dia le risposte che i cittadini stanno aspettando sono cose serie, sono cose importanti, sono diritti di base diciamo e vanno rispettati e noi stiamo con chi li chiede perché riteniamo che sia ragionevole rispondere in maniera positiva a queste richieste A proposito di progetti, qualche tempo fa in un'intervista ci aveva anticipato che il Partito Democratico e la lista Civica Ghezzi avrebbero in un qualche modo inaugurato una serie di iniziative o comunque annunciato una serie di novità molto importanti per la città la prima al metrominuto ne abbiamo ampiamente parlato qualche giorno fa e adesso invece una nuova modalità che potrebbe portare i cittadini a risparmiare sulle bollette, è corretto? Questa è la seconda iniziativa di cui l'avevo anticipato, è un'iniziativa, anche questa è una proposta ma anche qui gli elementi a favore sono molti ASM vendite e servizi che è la società che vende gas ed energia elettrica stipulando il contratto di fornitura dell'energia elettrica con il consorzio più importante della provincia di Pavia aveva assicurato, aveva garantito che parte dei benefici si sarebbero riversati sulla città in particolare sulle categorie, quindi sui commercianti e sugli artigiani era una dichiarazione che era stata fatta nell'estate del 2015 è passato un anno, non abbiamo avuto nessun tipo di riscontro, abbiamo deciso di prendere l'iniziativa conosco molto bene il settore perché ho lavorato lì negli ultimi dieci anni della mia vita ASM vendite e servizi ha sia i margini sia l'organizzazione per poterla realizzare la palla è nella sua metà campo, nel senso che mi aspetto che il Presidente convochi coerentemente con le dichiarazioni che sono state fatte un anno fa collochi i commercianti e dia loro le opportunità che giustamente si aspettano i commercianti e gli artigiani vediamo cosa succede e con due ore di analisi si riesce a formulare una proposta perché è molto semplice muoversi sul mercato retail se le proposte sono finite ce ne sarà una terza? penso che la prossima settimana o al massimo entro dieci giorni riusciremo a dare un annuncio molto importante per Voghera ma davvero molto importante per Voghera non è uno scoop anche questo è un problema molto sentito stiamo lavorando non da soli e vediamo se riusciamo a portarla in porto per finire trattiamo due temi molto caldi di questi giorni partiamo da SMT, quali sono le sue opinioni in merito a quello che sta succedendo in queste ultime ore? mi ha fatto sorridere se non fosse come si dice Voghera che bisognerebbe davvero piangere l'affermazione del Presidente di SMT Todeschini che ha sostenuto che la scelta contraria a quella invece indicata dalla Capogruppo nell'identificazione dei due membri che risiedono nel Consiglio di Amministrazione di Gestione Servizi di Gestione Ambiente che è la società che gestisce i rifiuti nell'Alessandrino è dovuta al fatto che i nomi nominativi indicati dalla Capogruppo SM avrebbero speso molte notte spese è un'affermazione senza senso non è sicuramente sul costo delle notte spese che si basa il ruolo e che si realizzano i benefici degli investimenti che ASM e Voghera si aspetta è stata una scelta politica di collegamento non con l'amministrazione comunale ma di collegamento con l'ex Giunta Barbieri di cui Todeschini l'espressione mi auguro che ci siano dei provvedimenti molto seri nei suoi confronti e nei confronti del Consiglio di Amministrazione insomma so che stanno lavorando in questa direzione e vediamo cosa succede Parliamo dell'impianto di Pirolisi da Bruxelles in poi sono successe tante cose anche su quello che opinioni ha il PD e lei personalmente? L'opinione che abbiamo è un'opinione di sorpresa e di forte critica nei confronti di Maroni e del centrodestra regionale durante la conferenza dei servizi i funzionari hanno espresso in maniera formale il parere che l'ultima delibera che il Presidente Maroni aveva invocato come delibera salvifica del territorio oltre padano non è applicabile quindi io mi sto domandando se davvero sono così folli da prendere in giro un'intera popolazione o se sono così incapaci da non riuscire a scrivere una delibera regionale che fermi l'impianto Che risposta si è dato? Non riesco a darmela Non riesco a darmela Sono davvero impacciato a pensare che il centrodestra regionale abbia un tale cinismo da confezionare appositamente una delibera che taciti nelle prime settimane le persone che protestano i cittadini che sono preoccupati e che invece non abbia nessun impatto dal punto di vista del processo